Parma, giovedì 10 luglio 1845. Mio caro padre, eccomi al fine giunto alla meta, dopo aver subito l'assalto di una folta schiera di doganieri, più di quanti mi azzardi ad indovinare senza contarli. Fammi pensare. Porta di Bologna, uscita, passaporto e gabbella. Ponte, mezzo miglio più avanti, pedaggio. Dogana, due miglia innanzi, lasciati gli stati pontifici, passaporto e gabbella. Dogana, dopo un quarto di miglio, entrati nel Ducato di Modena, prima l'agente doganale, poi l'addetto ai passaporti, pagato tributo ad entrambi. Porta Modena, entrata, dogana, gabbella, passaporto, gabbella. Porta di Modena, uscita, passaporto, gabbella. Porta di Reggio, dogana, gabbella, passaporto, gabbella. Porta di Reggio, uscita, passaporto, gabbella. Cambio dei cavalli, più avanti, passaporto, gabbella. Entrati nel Ducato di Parma, ponte, pedaggio. Dogana, gabbella, passaporto, gabbella. Porta di Parma, dogana, gabbella, passaporto, gabbella. In totale, ben 16 soste, con una perdita media di 3 minuti e un franco ogni volta, forse più. In tutto, mi hanno spillato 21 franchi e mezzo. Il doganiere di Modena non si è raddolcito per meno di 5 paoli e l'ufficiale pontificio di Bologna ci ha assicurato che era contrario alla sua coscienza risparmiare a qualcuno la perquisizione per meno di una piastra. È ancora più sgradevole del pedaggio di Hastings. C'è infatti, nell'intero sistema, un che di furtivo e abbietto. George, al pari di tutte le persone di una certa classe, era, a dir poco, furente. E se un provvidenziale acquazzone, accompagnato da lampi e tuoni, non lo avesse inzuppato fino alle midolla, non so proprio come ne sarebbe uscito. Ben diverso sarebbe se fossimo noi a condurre il gioco. Invece, arriva il doganiere, poggia la sua lunida mano sulla carrossa e non molla la presa finché non vi infili il franco o attacca a frugarti. A Bologna ho ricevuto la tua cortese lettera su Murray. Mi ha davvero rincuorato, poiché temevo che ti saresti alquanto infastidito. È senz'altro meglio che mi concentri sul libro, al momento, ne convengo. Non mi sorprende che i miei versi ti abbiano deluso. Sono tuttavia convinto che la mia vena poetica non si sia esaurita. Sono soltanto venute meno le occasioni di ispirazione. La vita che conduco, troppo tranquilla e regolare, persino agiata, ha il potere di indurire il cuore. Non vedo anima viva, eccensione fatta per i camerieri, i doganieri e gli accattoni. Non mi caccio mai negli impicci, né soffro disagi di sorta. Non sono esposto a nessun genere di eccitazione, tranne quella che deriva dall'arte, a parer mio di natura troppo astratta per produrre poesia, a meno che non sia affiancata da una passione che non riguardi solo la sfera intellettuale. Non vedo come sia possibile per uno che è in piedi alle 4, si corica alle 10, si rimpinza di gelati quando sente caldo, mangia carne di manzo quando ha fame, si sbarazza degli obblighi imposti dalla carità e l'argento danaro che non ha guadagnato e segue i dettami della pietà trattando le pene altrui come qualcosa di pittoresco anziché come un fatto reale, non vedo proprio come sia possibile per un simile individuo comporre buoni versi. L'altro giorno, a Bologna, ho inciampato in una povera creaturina che giaceva sul secciato, immersa all'apparenza nel sonno eterno. Forse era sfinita per l'inedia. Mi sono fermato all'istante, non certo mosso a compassione, bensì affascinato dalle pieghe della camicina brandelli che marcelava il petto smilzo. Se non ho negato l'obbolo alla madre, non è stato per un atto di carità. Mi premeva che scacciasse le mosche mentre eseguivo lo schizzo. Non vedo come si possa ovviare a tutto questo, ma si finisce senza dubbio col diventare sordi alla voce del cuore. Sono tuttavia persuaso che da quel periodo fecondo di poesia la mia mente abbia fatto enormi progressi sotto molti aspetti. Ti assicuro che non potrei comporre più certi versi, nemmeno se ne fossi capace, del che dubito. Forse oggi non scriverei con la vehemenza di allora, ma produrrei cose più sensate, ne sono sicuro. Ed è possibile che se fossi di nuovo in preda a quell'eccitazione morbosa, farei mostra della stessa energia, o meglio di una forza espressiva ben più virile. Credo comunque che quel tempo sia ormai passato. Noto diversi cambiamenti, alquanto singolari, nel modo in cui considero ora l'Italia. Provo un interesse assai più reale. Non sbriglio la fantasia, né vado in estasi. Mi appare adesso come un libro da cui tra profitto e diletto dal principio alla fine, anziché come un sogno da interpretare. Si è ormai dissolta l'aura poetica, e niente di ciò che vedo mi fa dimenticare che vivo nel XIX secolo. A questa metamorfosi ne è seguita un'altra. Sono diventato più patriottico. Oggi mi sono ritrovato a contemplare con assoluta indifferenza una stupenda catena di appennini. Me ne stavo fissò a mirarla e rimirarla, nel vano tentativo di goderne. Che diamine c'è che non va in quelle colline, pensavo. Possibile che non mi attraggano affatto. Dopo aver riflettuto ancora un po', ho compreso il motivo del mio disinteresse. Non erano né il Cumberland, né gli altipiani scozzesi. È questa una delle ragioni per cui adoro Chamonix. Un luogo saturo di reminiscenze di vecchia data. Non è un cambiamento straordinario? Chissà se è un bene. Tutto sommato, ho l'impressione di diventare un tipo piuttosto comune. Non ho tempo di aggiungere altro per stasera. Spero che il tuo viaggio sia stato piacevole. Così lontano da casa, si apprendono le notizie quando tutto è finito. Mi ero ripromesso di fermarmi per la notte a Modena. Ma è una città così deprimente che mi sono affrettato a proseguire. Immagina una stoccarda in rovina e avrei un'idea di Modena. Conto di partire per Piacenza lunedì. Forza anche sabato. Lunedì 21, a Dio piacendo, sarò a Domodossola. Saluta la mamma. Parma, domenica 13 luglio 1845. Mio caro padre, sono ancora qui. Mi sono reso conto che avevo bisogno di studiare un po' meglio i correggio conservati nella galleria. A Dio piacendo, partirò domani, di buon'ora. Non avevo mai visto simili profanazioni di soggetti sacri. Una di queste, una madonna col bambino in grembo, venne dipinta per una gentildonna. Una vedova che rimase assai soddisfatta dell'opera. Almeno così vuole la tradizione. E non stento a crederlo. Dal momento che il bambino sembra sgambettare e gettare gridolini di gioia. Insomma, ha proprio un'aria sana e vispa. E l'angelo che gli insegna a leggere ride tanto di gusto che, come afferma Vasari, ne lo vede persona di natura melancolica che non si rallegri. Aggiungi poi una giovane Maria Maddalena, la più lasciva che si possa immaginare. Tutta la sensualità di Etti, perfezionata e abbellita con carnagione chiara e soffici capelli d'oro. Fino a diventare l'immagine stessa della perdizione. Eccoti i punti salienti di questo capolavoro. Nella biblioteca campeggia un grande affresco. La Vergine incoronata in cielo da Cristo, il soggetto favorito dei pittori sacri, ma la Madonna del Correggio, volge la schiena a Cristo. E incrociando le braccia e le mani alla maniera della Taglioni, una giovane ninfa simile a una dolce baccante, ripiega il capo sulla spalla con aria languida. In una posa che l'acerito farebbe bene a venire a Parma a studiare, poiché la batte di gran lunga. Quanto ai Cristi che si vedono qui, anch'essi, opera sua, sono una bestemmia bella e buona. Non oso guardarli. I suoi apostoli, poi, mi richiamano alla memoria i più rossi fabbricanti di bottoni di Birmingham. sepolti nei favoriti, recano qua e là il marchio dell'assassino e del libertino, e sono, per giunta, imbevuti di un'aria di mendicità. È una fortuna mostruosa che sia venuto qui, altrimenti avrei espresso un giudizio erroneo sul Correggio. E mi è stato di grande utilità dopo aver studiato ultimamente solo il Perugino e l'Angelico. Ha davvero un clima orribile, quest'Italia. Nel pomeriggio tuona, tuona sempre, o succede qualcosa di insolito. Grazie a Dio, tra una settimana sarò in viaggio per Domodossola. Saluta la mamma.